Certi amori finiscono, nonostante i messaggi e i ritorni come quelli di Francesco Lodi. Tra Lodi e il Catania storia praticamente finita, le pratiche del divorzio già avviate. Il triangolo Lodi non lo aveva considerato, il terzo incomodo Reinaudo e il prescelto tattico da Pellegrino, come visto in campo nelle ultime quattro gare della scorsa stagione. Al Catania non è piaciuto poi anche la richiesta di adeguamento contrattuale avanzata proprio da Lodi pochi giorni fa. Insomma, Cosentino è pronto a cedere, mandato, donato, anche al suo procuratore Alessandro Moggi, amico della Dietneo. Il Parma resta in Pol, la Fiorentina stuzzica, ma attenzione alla pista estera. E dall'estero ormai avviati i contatti in quel di Londra, Spond Arsenal. Nalpergino Peruzzi, Cosentino ascolta le proposte dei Gunners e per ora troppo basse rispetto ai 6 milioni chiesti dal Catania. Un altro nodo in casa Ettenea si chiama numero 1. I rossazzurri devono affrettare i tempi, un ruolo troppo delicato per avere titubanze. Frison è sempre osservato dalla Samp che però attende Romero. Gile rimane in caldo, Cosentino ha già messo gli occhi su di lui da tempo. Catania che intanto, dopo Rinaudo, ha ufficializzato dopo giorni anche Rosina e maglia numero 9, già segnata a Calaio 9, che era di quel Gonzalo Bergessio sempre sul mercato. La Fiorentina avanza ipotesi, ma attenzione invece alla Premier League. E intanto è ufficiale la prima uscita stagionale del Catania, prevista per sabato 26 luglio alle ore 17. Il Catania giocherà la sua prima amichevole con la formazione di prima categoria del città di Mascaluccia e Catania che aprirà le porte ai tifosi che potranno entrare nell'impianto di Torre del Grifo a partire dalle ore 16.